Ciao ragazzi e ragazze bentornati in questo nuovo video io sono la presentatrice di una sfilata di moda di Barbie che voi dovrete praticamente votare quella che vi piace di più nei commenti che sono due ragazze Summer e Marilena bene vi lascio a loro due e ci vediamo dopo ciao iniziamo ciao io sono Marilena votatemi questi sono i miei capelli e questo è il mio vestito Samme Marilena secondo abito Samme questo è il mio vestito e queste sono le mie scarpe terzo vestito Super Super Gozy Marilena Gozy Style Super Gozy Style votatemi terzo abito Samme votatemi yeah abito canottiera e gonna Super Crazy yeah super gozy quarto abito Samme Crazy guardate il mio fermaglio quanto è carino la mia gonnellina guardate che bello super crazy vestito rock chic il quinto dopo ci sarà l'ultimo elegant chic e dopo ci sarà elegant come ha detto come ha detto come ha detto marilena come ha detto super super rose style rock chic yeah ultimo vestito elegant chic chi vincerà da 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 vestito elegant chic ultimo chi vincerà votate sotto nei commenti che è più bella tra me You, perfetto Fantastica sarò Io vincerò Io ce la farò Io vincerò Votatemi Il cielo bello vuoi Volerà da me Voi comunque votatemi, ciao Ciao, questa è l'ultima Sfilata con il vestito Elegant Chic Votatemi e non ve ne pentirete Pazzaria, Summer Siamo tutte molto allegre Bene, adesso canta una canzone, Summer Io vincerò Comunque la canzone è un po' imbarazzata Io vincerò, sì, sì, vincerò La canto Io vincerò Nel cielo più blu Io salirò, salirò Nel cielo blu Salirò, salirò, salirò Ok, nel cielo blu basta Bene ragazzi Questa era la sfilata di moda di Barbie Votate tra le due ragazze Ciao, un bacione Mua 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 Mua